I romani, perché le canne bisogna vedere come sono accordate, c'è un uovo piccolo non lava chiesa ma se lava a curcatura, questo mi sto dicendo, non c'è bisogno di tanto legno di tanta lunghezza, però questo funziona all'ottava sotto, è un'altra cosa questo oggetto non si riesce a cercare così, vedi un po' come suona, ci troviamo la dovina, la dovina lenta un po' come suona a 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 questo suono non può uscire con la pezzetta? no, non può ne uscire, questo vi volevo far capire è perché sembra una cosa così lunga, però sonata la sola qui è nato vedete che merda ci manca, ricorda la pepita, ci manca un'altra casa ci manca una cosa a Dio, a Dio che lo so, 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 a Dio che lo so è un'altra canna che, mentre io faccio solo la pepita, noi qua abbiamo il cucurale più piccolo, un fischetto più piccolo, che è un identico a quello della mamma ma no, ma no, Cristo vorrei qua senza cosa qua, è un'umania, soppacchita si, si, ma quando la pepita ci porto la pepita? si, si, è chiaro, è chiaro che, allora, pepita è questa questa qua deve suonare sempre con l'altra misura si, c'ho la romana, c'ho la romana ho canto ci sono tutte e due, e due pepite? si poi, guardate, io, la zamponia questa non la farei mai, non la farei mai perché? non la farei mai, non la farei tutta diversa, tutta diversa vabbè, la nostra è diversa di oggi perché la nostra è tutta diversa, fuori che avevamo a tutta misura io per dire ci farei un bello testale, dopo ci farei una bella... vabbè, un stile, poi ognuno è personale ma farete un altro tipo di zampogna? no, questo... vabbè, i modelli nostri sono diversi, no? per esempio noi i testali le facciamo, le facciamo un pochino... e questo è un di stile sul pollino vengono fatte così si, si uno dei più grandi maestri che ha venduto zampogna in tutto il mondo l'ho copiata da quel maestro là, io le faccio così si, si, le zampogne del pollino guarda, quella di Forastino, questa è la coppia di quella di Forastino queste perché ci inventate, non muove scappare? per non farle scappare, si si diciamo che le zampogne delle serre hanno... ma queste non possono scappare, sapete perché? ma fletto, non ho poco fletto, non ho poco no, queste non sono coniche come i noci sono coniche questa se ci vanno... se ci vanno... se ci vanno... se ci vanno... no, è coniche, si quindi...